Nell'ordinamento italiano da un paio di giorni c'è una nuova figura giuridica, quella dello scafista occasionale, lo scafista per necessità. Accade dopo che il Tribunale di Palermo ha mandato assolti 14 portatori di schiavi perché, stiamo citando la motivazione della sentenza, anche loro sarebbero stati costretti a fuggire dall'inferno libico, mettendosi alla guida aggiungiamo noi dei gommoni per attraversare il Mediterraneo, come se fosse la cosa più semplice e più automatica del mondo, come se chiunque di noi incapaci di nuotare con il salvagente Colochetta in piscina fosse in grado, occasionalmente, di mettersi al timone di una bagnarola e farsi Libia-Sicilia solo andata. Poiché le sentenze vanno rispettate e non discusse, prendiamo atto della surreale occasionalità. Il problema è a questo punto l'esempio. Da domani il rapinatore occasionale Brianzolo, il truffatore occasionale di Modena, il ladro per necessità di lavagna, qualcuno ce n'è, dovrebbero avere lo stesso destino, avere lo stesso trattamento. Giusto? A questo punto ci travolge una domanda. È giustizia o in alcuni casi è teatro?